Daniele Liotti, ciao, spettacolomania. Un passo dal cielo, Francesco Neri, un personaggio molto particolare, raccontavi prima quasi due persone in una, no? Sì, questa bidimensionalità del personaggio è stata una cosa molto simulante per me, no? Atture, metterla in scena. Se da una parte mi sono appunto appoggiato a tutte quelle che erano le cose di sceneggiatura che mi permettevano di scoprire al primo momento il thriller, il delitto, il giallo che c'era dietro al caso di puntata, dall'altra invece ho dovuto far leva più su quelle che sono le paure e le vulnerabilità di Daniele per poter mettere in scena quella parte del personaggio, cioè quella parte di un uomo che ha un dramma così importante che gli è accaduto in passato che tuttavia non ha risolto. Fronteggiarlo, avere il coraggio di elaborare, di mettersi di fronte ad un qualcosa che ti è successo è una parte molto interessante nella costruzione del personaggio. La montagna è in questo senso, ti aiuta a metterti in contatto con questa parte più profonda del tuo io e l'insieme di queste due cose ha creato un personaggio secondo me molto interessante, non scontato che non si vede sempre in televisione perché si tende a fare o i supereroi, quelli che già hanno visto tutto, che già sanno tutto. Il mio personaggio, almeno quello che ho provato a fare con questo personaggio, è un personaggio estremamente umano, che è fallibile, che sbaglia molte volte, che non ha questa capacità di fronteggiare gli altri, che ha paura di essere letto dentro, ma nello stesso tempo non si tira mai indietro. Quindi affronta tutte queste paure per arrivare a emanciparsi e ricredere nella vita. Anche Francesco comunque conserva un po' di mistero, no? Tu spesso fai dei personaggi misteriosi, anche in un'altra vita, no? C'avevi dei segreti da non svelare. Ma che sarà la faccia? Beh, io non lo so. A me questa cosa del bel tenebroso mi fa ridere, mi fa sorridere, nel senso che... Abbiamo riso anche del bel Antonio. Sì, sì, sì. Io nella vita non sono così, sono abbastanza aperto, sono abbastanza solare come persona, quindi poi quando mi affibbiano questo ruolo del bel tenebroso ci provo a renderlo, ci provo a darlo, però effettivamente è una tipologia di personaggio che ti dà la possibilità, se non altro, di avere più sfaccettature, no? E quindi di avere non solo B, ma anche 3, quadrimenzionalità. Vabbè, che ti disegnano così, dai. E che mi disegnano? Cioè io poi alla fine si tende un po' in Italia a fare un casellare, no? Mettere, mentre invece sono un attore bello, diciamo bello, ma non mi voglio dire bello da solo assolutamente, però gli si fanno fare più ruoli. In Italia, insomma, quello che è Bellino deve poi fare sempre questo ruolo qua. Io ci provo in tutti i modi, come voi sapete, a fare anche altri personaggi, perché poi non ultimo in teatro ho fatto Elephant Man, che era una cosa... Proprio bello non era. ...diametralmente opposta, così come ho fatto il Sant'Antonio da Padova, dove mi sono rasato completamente. Cioè cerco di andare contro questo lato, ma non perché abbia paura di essere etichettato, semplicemente perché mi ispirano di più personaggi che hanno qualcosa dentro da dare piuttosto che da far vedere. Farai cose molto diverse prossimamente, perché ti rivedremo in televisione, in Immaturi e anche in... Squadra mobile, sì. Quest'anno sono stato molto fortunato, mi ritengo molto fortunato, perché ho avuto la possibilità di stare su più set, anche contemporaneamente, è stato molto duro. Mi hanno aiutato le produzioni perché hanno fatto in modo di liberarmi e faccio appunto, ho preso parte a Immaturi, faccio un professore di matematica, quindi una commedia, quindi con dei toni molto più leggeri, un professore di matematica molto ingenuo, molto naif, che nello stesso tempo però ha un segreto, perché ha un problema di ludopatia, quindi si gioca tutti i suoi guadagni, lo stipendiuccio che prende al gioco, tutto chiaramente visto in maniera leggera. Mentre invece in squadra mobile sono il super cattivo, senza scrupoli, corrotto, nemico di Ardenzi, cioè di Giorgio Tirabbassi, che l'altro anno è andato molto bene, nel senso che sotto casa mia mi hanno scritto sul muro sei un bastardo Sabatini. Eri molto credibile, Daniele. Vuol dire che insomma ci avevano creduto, sono andato bene. Grazie Daniele. Grazie a voi.